Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre e come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram, su TikTok e su Twitch e il link che trovate qui sotto in descrizione. Dunque signori, sono tornato da quattro giorni che ho passato a Berlino, in Germania, non ce l'ho mai stato, quindi ho approfittato del ponte del primo maggio per andare a dare un'occhiata. La città mi è piaciuta veramente un sacco, vi consiglio di farci un salto, soprattutto perché già che c'ero sono andato a visitare le varie location di Captain America Civil War. Vi lascio il post che ho pubblicato qui su Instagram e ve lo lascio anche linkato qui sotto. andate a dargli un'occhiata perché alcune location sono veramente fighissime e se capitate in zona, secondo me, un saltino merita che venga fatto, soprattutto da tutta la parte dove c'è l'ICC di Berlino, che è appunto questa zona enorme dove hanno girato tutto l'inseguimento tra Pantera Nera, Captain America e Bucky, soprattutto perché poi c'è il sottopasso dove hanno girato anche un sacco di roba come Atomica Bionda, Hunger Games, eccetera. Veramente fighissimo, quindi andate a dare un'occhiata. Direi quindi di recuperare un po' di notizie e foto che sono uscite in questi giorni perché sono veramente tantissime e direi di rimanere in tema Captain America parlando di Captain America Brave New World. Ci sarà un articolo dedicato al film nel prossimo numero di Empire e per l'occasione è stata pubblicata anche una nuova foto ufficiale dove vediamo Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson con il suo nuovo costume di Cap. E tra l'altro è stato pubblicato anche un piccolo estratto dell'intervista al regista del film che ha dichiarato che andremo ad amare tantissimo le scene action all'interno di questo film perché Sam, a differenza di Steve, non ha la super forza e quindi subirà molto di più le conseguenze dei vari scontri. Quindi in sostanza ci ha detto che verrà massacrato di botte per tutto il film. Sono molto curioso, come sono molto curioso di vedere anche Hulk Rosso di Harrison Ford anche se per questo secondo me ci toccherà aspettare ancora un pochettino. Passiamo invece adesso al film che più attende in assoluto dei prossimi 200 anni ed è Deadpool e Wolverine che per fortuna uscirà questo luglio e non ci toccherà aspettare tantissimo salvo rinvi dell'ultimo minuto ma a questo punto non credo. Perché Empire gli ha dedicato invece a lui una copertina intera, bellissima tra l'altro in cui vediamo sia Logan che Deadpool ma anche Dogpool e poi per l'occasione ha pubblicato diverse foto in risoluzione enorme. Alcune tratte da momenti che non abbiamo ancora visto nel trailer tipo questa dove vediamo appunto Logan e Wade con alle spalle il furgoncino che avevamo già visto nelle foto della set che è lo stesso di Moon Knight e poi abbiamo quest'altra che ci fa mirare in tutta la sua completezza i due costumi tra l'altro questo qua di Logan è veramente fighissimo infatti ci sto facendo un pensierino per il prossimo look poi abbiamo una foto di Dogpool, bellissimo secondo me ci farà spaccare da ridere e poi quest'altra che penso abbia gasato tutti quanti me compreso dove vediamo Hugh Jackman nella posizione da Wolverine con gli artigli sguenati pronto a scontrarsi probabilmente contro Deadpool nella scena dove si picchiavano dentro la macchina sembra quel bosco lì però vediamo tra l'altro cosa curiosa è che continuiamo a non vedere ufficialmente Wolverine con la maschera l'abbiamo già visto in diversi artbook artbook, in diversi artwork ma ufficialmente non ce l'hanno ancora mostrato questo perché secondo me se la vogliono tenere per il terzo trailer un po' come l'avevano tenuto nascosto tra varie virgolette Wolverine con il costume giallo nel primo trailer hanno pubblicato già una foto ufficiale nel primo trailer ce l'hanno solamente fatto vedere per mezzo secondo sfocato nel secondo trailer l'abbiamo visto anche in azione secondo me il terzo trailer li faranno indossare anche l'elmo l'elmo che però possiamo vedere in alcuni poster art che sono stati pubblicati in questi giorni dato che c'è stata una fiera in Messico come questo sono state pubblicate degli art dei due protagonisti appunto qua vediamo Logan con l'elmo e poi è stata pubblicata anche una foto della prossima statua dell'Aerostudio si scala 1 a 10 che sono quelle che sto collezionando da diversi franchise e di diversi personaggi Marvel dove vediamo appunto Logan tenere in braccio Deadpool e Dogpool è stata molto figa questa probabilmente la recupero come vi dicevo sono stati pubblicati anche alcuni poster presentati in occasione della fiera messicana come questa qua dove sono rappresentati i protagonisti su questi cerini da chiesa o quest'altro e poi abbiamo diverse art vari che stanno continuando a uscire in questi giorni e soprattutto questa qui che ci fa dare uno sguardo un pochino più approfondito da alcune varianti di Deadpool che già erano state teaserate da qualche teaser poster non so se vi ricordate negli scorsi video dove si vedeva solo la silhouette qua li vediamo più nel dettaglio abbiamo Headpool, la testa zombie di Deadpool Kidpool, tra l'altro molto figo il design con la felpa così Babypool e ovviamente Dogpool non vedo veramente l'ora tra l'altro cosa curiosa non è stata ancora ufficialmente mostrata né Lady Deadpool che probabilmente ci sarà e io continuo a dire che sarà Black Levely e né la versione Samurai di Deadpool che era stata liccata dalle foto dal set quindi secondo me ci saranno un bel po' di varianti che ancora hanno tenuto nascosto io spero di vedere diverse varianti di Wolverine anche mi aspetto un ritorno del Wolverine di Arma X che sarà visto come cameo in X-Men Apocalypse se non sbaglio era Apocalypse sì ma comunque mi aspetto grandi cose soprattutto perché in questi giorni sono partiti dei reshoot del film che secondo alcuni insider serviranno solamente per inserire piccoli camei e easter egg all'interno del film qualcuno ha dichiarato addirittura che tra i vari personaggi che verranno introdotti grazie a queste riprese aggiuntive ci sarà anche il Blade di Wesley Snipes che aveva già dato appunto il volto al personaggio nella vecchia trilogia cinematografica trilogia in cui tra l'altro rappresenta anche Ryan Reynolds quindi i due si conoscono, sono amici e come ho già detto in diverse altre occasioni Reynolds per me in questo film ha tirato dentro tutti i suoi amici quindi mi aspetto veramente qualsiasi cameo immaginabile e mi piace il fatto che abbiano deciso di nasconderli al momento praticamente tutti dai vari trailer voglio rimanere sorpreso quando vado a vedere il cinema mi aspetto di vedere cose completamente folli quindi ragazzi aspettiamoci secondo me ancora un trailer finale sicuramente quando partirà la prevendita dei biglietti del film manca ormai poco si tratta di due mesi e mezzo, tre mesi quindi prepariamoci a godercelo appieno passiamo invece adesso ai Fantastic Four perché secondo quanto dichiarato da Variety Paul Walter Hauser che io conosco per la serie Blackbird su Apple TV che vi consiglio assolutamente di vedere perché mi è piaciuta veramente veramente un botto si unirà al cast di Fantastic Four in un ruolo non ancora rivelato ora alcuni pensano che potrebbe interpretare l'uomo talpa ora non ne sono completamente sicuro cioè per carità mi piacerebbe vedere l'uomo talpa all'interno del film ma ormai hanno praticamente confermato che ci sarà Galactus quindi o lo fanno vedere e morire nel tempo di due secondi oppure spero non facciano un mappazzone di villain dei Fantastic Four nel primo film la cosa secondo me più fattibile è che dia la voce a Derby il robottino che abbiamo intravisto dal primo poster ufficiale pubblicato da Marvel al momento non si sa niente le riprese cominceranno a breve anche dei Fantastic Four quindi magari dal set qualche piccola chicca inizieranno a farcela vedere prima di concludere volevo ancora citare due cose la prima è un rumor secondo il quale Ben Affleck sarebbe stato approcciato da Marvel Studios per tornare in casa Marvel in un ruolo che non sarà ovviamente Daredevil ma che mi incuriosisce parecchio sono curioso di rivedere Affleck in un possibile ruolo all'interno del mondo Marvel soprattutto perché a me lui come attore piace parecchio e devo dire anche come regista quindi vediamo se questo rumor si andrà a concretizzare ma soprattutto passando invece a chi ufficialmente sarà in Marvel Cinematic Universe in uno dei prossimi progetti parliamo di Giancarlo Esposito che durante una recente intervista ha confermato che è stato castato per un ruolo di cui ovviamente non può ancora parlare e non può ancora rivelare nulla ha confermato però che non sarà Chuck Xavier come era stato rumoreggiato tantissimo tempo fa non so se vi ricordate lui come è possibile il nuovo Xavier e Denzel Washington magari come nuovo Magneto non sarà Xavier ma le opzioni rimangono veramente infinite c'è chi parla di Norman Osborn e devo dire che ce lo vedrete bene soprattutto per il taglio di capelli che ricorda tantissimo quello di Norman poi secondo me sarebbe azzeccatissimo nel ruolo qualcun altro dice destino anche se spero proprio di no perché mi aspetto un destino un pelino più giovane un po' in linea con gli altri membri del cast dei Fantastici 4 non ho assolutamente idea di chi potrebbe interpretare lui mi piace veramente un sacco come attore è sempre stato bravissimo secondo me sarà un villain non credo proprio che lo vedremo dalla parte dei buoni perché secondo me lui dà veramente il meglio di sé appunto nel ruolo di cattivo soprattutto dopo la prova attoriale immensa come Gus Fring in Breaking Bad e quindi aspettiamoci novità anche da quel punto di vista ragazzi quindi ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate voi mi raccomando con un commentino qui sotto secondo voi chi potrebbero andare a interpretare Ben Affleck Giancarlo Esposito e Hauser sono curioso di sapere la vostra e niente io spero che questo video vi sia piaciuto e noi come sempre come al solito ci vediamo al prossimo video ciao